Fashion Academy TCI Training Center International Gonna a tubino, corso di modellistica In questo corso di Fashion Academy TCI imparerai a creare il cartamodello della gonna a tubino con metodo e tecnica che ti permetterà di realizzare un capo che Dior negli anni 40 presentò per la prima volta in passerella. Simbolo della donna in carriera dagli anni 80 è diventato un capo indispensabile. Ma come riuscirci? I cartamodelli che realizzi con la modellistica Fashion Academy TCI ti permettono di creare prodotti finiti e realizzare delle collezioni per così dare inizio alla tua carriera nella moda. Ma cosa vedi quando ti iscrivi nel tuo pannello? Innanzitutto troverai l'introduzione al ruolo del modellista che potrai scaricare attraverso un file PDF. A seguire troverai l'introduzione alla costruzione del cartamodello della gonna a tubino. Anch'esso potrai scaricarlo in PDF e consigliamo di stamparlo e tenerlo a portata di mano durante la costruzione del cartamodello. Dopodiché è presente una tabella riguardante i valori di vestibilità tessile che dovrai applicare durante la costruzione del cartamodello. A seguire vi è la tabella misura dalla taglia 38 alla taglia 52. Anch'essa consigliamo di stamparla e tenerla a portata di mano durante la costruzione del cartamodello. Inoltre troverete la definizione delle misure del corpo utile per imparare a prendere le misure sul corpo umano in relazione alle taglie attraverso il centimetro sartoriale. Avrete poi a disposizione un file che indicherà tutti gli strumenti tecnici che vi occorreranno durante lo sviluppo del cartamodello. Poi partiranno le video lezioni dettagliate on demand sempre accessibili 24 ore su 24. Qui ti vengono mostrate alcuni frame riguardanti il corso di modellistica. Come puoi vedere da un lato vi è la descrizione e l'illustrazione del metodo impiegato per costruire il cartamodello che hai scelto. E dall'altro viene affiancato il docente che costruisce in simultanea il cartamodello così come dovrai eseguire. Sono visibili gli strumenti e anche il modo nel quale viene consigliato di impiegarli. Le lezioni potrai sospenderle e riprenderle in qualsiasi momento della giornata. Una volta terminato il cartamodello potrai sottoporlo a revisione e a seguito dell'approvazione del tutor potrai accedere all'area del quiz finale. Complimenti, hai superato il test finale. Puoi ora scaricare il tuo certificato di frequenza. Fashion Academy TCI ti auguro buon proseguimento del corso e ti ricordiamo che avrai il nostro supporto. Puoi contattarci attraverso la chat che trovi nel sito o scriverci presso l'email info-fashionacademyonline.com Grazie Grazie Grazie